Entro domani termina l'iter per la gara ad appalto per i parcheggi a pagamento a Teramo e subito dopo verrà emanato il bando. Sì, domani l'unità di progetto istituita lo scopo, terminerà i propri lavori, è stata già approvata con una mia delibera la relazione che detta un po' tutte le regole del nuovo bando di gara e quindi del nuovo servizio che come si sa prevede l'installazione di parcometri, prevede anche l'erogazione di un canone al comune in più una percentuale sulle sanzioni e quindi ci sono alcune novità importanti di questo tipo. Tutto finirà prima della gestione commissariale? La gara verrà bandita al massimo entro la fine del mese, credo che l'aggiudicazione possa avvenire anche sicuramente entro la fine della gestione commissariale, così come conto di concludere il procedimento per l'assegnazione del palazzetto dello sport cosiddetto Palace Capriano e della palestra dell'Acqua Viva per la quale a breve verrà emanato il bando e anche lì ho già approvato i criteri di gara per cui non dovrebbero esserci problemi e dovrebbe essere ormai imminente. Quindi sono tutte iniziative che contiamo di concludere. Per quanto riguarda la piscina... E lì chiedono le chiavi al comune, c'è stata l'aggiudicazione della gara? Sì, l'aggiudicazione è avvenuta, è avvenuta quella definitiva, manca soltanto adesso la stipula del contratto perché vogliamo rispettare bene le regole e quindi non affidare e mettere in possesso le società, il raggruppamento di società che si è aggiudicata alla gara prima della stipula del contratto. Per la stipula del contratto occorrono alcuni documenti che sono già stati richiesti agli aggiudicatari e quindi anche lì contiamo quanto prima di metterli nel possesso e poter così riavviare l'attività.